Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per lavori si segnala la chiusura delle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sono possibili disagi. In A11 per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, stanotte in orario 22.6 sarà chiusa l'uscita di Pistoia per chi proviene da Pisa. Sempre stanotte in orario 22.6 chiuso il tratto tra Pistoia e Monte Catini in direzione Pisa. A Firenze in via delle Casine fino al 16 novembre per lavori alla porta telematica in vigore un restringimento di carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!